Noi domani siamo al Fano Center per effettuare lo screening glicemico e determinare l'indice di massa corporea, misurare la pressione e dare a tutta la popolazione, quindi noi lo facciamo per voi, per chi non ha nulla, chi pensa magari di non avere nulla e me lo auguro, dare molti consigli per un corretto stile di vita e per un'alimentazione sana. Abbiamo dato un monito, un allarme noi delle associazioni diabetici d'Italia in quanto c'è stata una rilevazione molto grande di un'epidemia che avverrà nel futuro di diabete di tipo 2 se questa malattia non viene fermata e come possiamo fermarla? Volendoci più bene e quindi mangiando meglio, muovendosi e avendo anche del tempo per se stessi, tenendosi cura di sé. Noi vogliamo assolutamente, avendo già questa malattia e ricordo anche, faccio una piccola precisazione, sentirete parlare sia di diabete di tipo 1 che diabete di tipo 2. Sono due malattie, diciamo, diverse, la cui cura è totalmente diversa. Siamo più orientati facendo questo screening per la prevenzione del diabete di tipo 2 perché il 90% delle persone hanno il diabete di tipo 2, il 10% è destinato a quello di tipo 1. Ringrazio tantissimo il dottor Giulio Lucarelli, endocrinologo e diabetologo dell'AST di Pesaro Urbino, il nostro grande referente, che darà dei consigli a tutte le persone che si sono sottoposte a questo esame. Vi aspetto domani in tantissimi al Fano Center, il 18 novembre dalle 9 alle 1 e dalle 2 e mezza alle 18 e 30. È un appuntamento importante quello che si svolge domani a Fano, al Fano Center, in quanto ricorre la giornata mondiale contro la malattia delle diabete. Un appuntamento che si ripete ogni anno ma che è importante parteciparvi. Qual è l'impegno dell'amministrazione comunale su questo fronte, Assessore Cucchiarini? Siamo d'anni a fianco di tutte quelle associazioni, oltre che del mondo sanitario, che si occupano di salute anche in termini di prevenzione, prevenzione primaria in questo caso. Ci fa particolarmente piacere essere vicini adesso all'Associazione Diabetici, che si impegna comunque uno screening glicemico gratuito insieme al mondo sanitario, perché i numeri anche a Fano parlano chiaro, sono numeri importanti, più di 7.000 casi affetti da questa patologia subdola, anche diversa per tipologie, che può diventare veramente invalidante.